mi spieghi quindi anche a chi vede qual è la particolarità dell'episodio numero 5 la particolarità è quella di sovvertire le regole che fino a quel momento erano state fondamentali per il concept della serie nel quinto episodio ci ritroviamo in sardegna ad agosto gli schemi narrativi saltano saltano gli schemi narrativi e salta anche lo stile che fino a quel momento è stato caratteristico della serie e gli sceneggiatori sono stati molto abili a costruire un racconto che prende spunto da modelli cinematografici del passato penso a billy wilder penso a sunset boulevard e noi abbiamo cercato con questo diciamo tessuto narrativo io ho cercato appunto di dare all'episodio uno stile una veste che fosse in linea con quel tipo di cinema per cui c'è stata partendo anche soltanto da dalle lenti della macchina da presa abbiamo usato delle lenti anamorfiche abbiamo usato una palette di colori che potesse ricordare un certo cinema del passato abbiamo cercato di raccontare il luogo la sardegna villa certosa per come un vero protagonista quello che è stato in fondo nella storia politica italiana degli ultimi vent'anni negli ultimi 30 anni ormai 25 anni ormai ti devo fare una domanda odiosa mi rendo conto per un regista una domanda che coinvolge un altro regista perché mentre lavoravate a questa serie a questa stagione è arrivato sorrentino che ha fatto un film toni completamente diversi perché lui esagera però ambientato dove è ambientato questo episodio con anche per forza delle scene in comune perché sono quello che sappiamo che avveniva lì il berlusconi che canta la festa ora loro giustamente gli sceneggiatori dicono noi l'avevamo già scritto però tu l'hai dovuto mettere in scena dopo questa cosa come funziona cioè tu ci pensi che gli spettatori già hanno visto quello come lavori guarda in questo caso qui è stato molto semplice perché raccontavamo innanzitutto il punto di vista cambiava perché non era quello di berlusconi appunto ma era quello dei nostri protagonisti era il punto di vista di le notte in primis il punto di vista di veronica e il punto di vista di pietro bosco questo dava la possibilità così di di costruire il racconto da 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 un punto di vista diverso appunto e rispetto a diciamo al visual dell'episodio è molto diverso da loro perché appunto noi ci rifacciamo a un immaginario che non è contemporaneo quindi anche attraverso delle piccoli stratagemmi di messa in scena ho appunto di scelta dei paletti dei costumi piuttosto che di come era la villa secondo me rimanda un immaginario leggermente diverso da quello del film però come dire non ha influito nella nella resa estetica spero questa cosa di cambiare stile anche visivo per un solo episodio una cosa che capita spesso in america in italia non l'avevo mai visto accadere specialmente nella nuova televisione una nuova serialità complicato farlo accettare farlo che i produttori dicano di sì cioè farlo avvenire la cosa positiva in questo caso che è stato chiesto dai produttori da da wild side da sky la possibilità che ogni episodio della terza stagione fosse un film a sé stante no per cui abbiamo il pilota che sarà lo spettatore vedrà un thriller politico dai toni molto scuri ambientato nei corridoi del dietro le quinte del dibattito da mentana di occhetto e berlusconi passiamo trasformiamo la messa in scena e la palette dei colori nell'episodio femminile di veronica castello che il secondo per cui ci apriamo un attimo abbiamo i colori che esplodono e mi piace dire questo che è stata un'opportunità per noi no alla testa stagione potrebbe essere che le dinamiche dei personaggi sono quelle il modo il nostro modo di approcciare la storia è quello e può essere noioso persino per chi la fa in questo caso è stato bellissimo credo che questo lo spettatore potrà solo giovarne di questa cosa che ogni episodio si ritroverà davanti a un oggetto filmico diverso da quello che ha visto nel precedente bisogno per cui la possibilità di abbattere i dogmi del concept originario abbattere le regole far saltare il modo in cui viene raccontato che non ci sia più la la multilinearità del racconto secondo me ha fatto bene a noi e quindi secondo me farà bene allo spettatore godersi di più una terza stagione che altrimenti poteva rimanere come dire potrebbe rimanere invariata e senza motivi di mi sono perso è un finale straordinario grazie mille 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 Grazie a tutti.